Un periodo intenso di iniziative, spettacoli, convegni e momenti di riflessione sull'universo femminile, in vista della festa della donna, a cura del Comitato 8 marzo. Si comincia questo sabato e il cartellone di manifestazioni ed eventi è stato presentato in comune a San Giovanni. Tante iniziative che avranno al centro proprio le donne. Si comincia questo sabato al Palazzo d'Arnolfo alle 16.30 con la presentazione del libro di Dina Lauricella dedicato appunto alle donne che hanno cercato di contrastare l'andrangheta. E poi si andrà alla prossima settimana, sabato prossimo sempre in Palazzo d'Arnolfo, sabato prossimo 6 marzo alle 16.30, Lasciami Parlare, una rappresentazione teatrale tratta dalla raccolta di racconti di Laura del Veneziano, sempre sabato prossimo 6 marzo alle 21.30 alle Ali, una rappresentazione teatrale Stand By Me a cura dell'Associazione Culturale Masaccio e poi domenica 8 marzo una serie di iniziative, il Moto Tour dedicato a Beatrice Bossini, il pranzo tradizionale ai saloni il cui incasso sarà devoluto in beneficenza e il pomeriggio alle 17 sempre a Palazzo d'Arnolfo la presentazione di una conferenza che ha al centro i pazzi ad Alessandra. Concluderemo questa serie di iniziative del mese di marzo a San Giovanni Valdarno con lo spettacolo teatrale del 25 marzo che avrà come interprete Lella Costa su un testo scritto da Serena Dandini e nel corso di questo mese di marzo con inaugurazione sabato 7 marzo la mostra fotografica di Giulia Fisi realizzata in collaborazione con Marco Viglio. In prima fila nell'organizzazione la Commissione Provinciale Pari Opportunità. Noi come provincia sosteniamo anche questi eventi spalmati più sull'intere mese ci sarà martedì 3 marzo la presentazione anche di tutti gli eventi che copriranno la provincia di Arezzo in cui verranno presentati anche tutti gli spettacoli che ci saranno a San Giovanni e anche quelli che sono stati organizzati dal comitato di 8 marzo. Tra i momenti salienti l'appuntamento di giovedì 5 marzo alla ginestra di Montevarchi l'incontro con Susanna Camusso. Una delle iniziative più importanti che si svolgeranno questo mese dell'8 marzo è una conferenza alla ginestra a Montevarchi organizzata dalla CGL di Montevarchi San Giovanni alla quale parteciperà la Susanna Camusso. Si terrà giovedì 5 marzo alle 15.30.